Scusate se sono stata assente in questi giorni, ma da giovedì ero in isolamento domiciliare per proteggere la mia famiglia, mio marito e mia figlia, per proteggere tutte le persone che conosco e incontro costantemente. Purtroppo, purtroppo, sono dovuta andare a Benevento e mercoledì ho incontrato una persona positiva al Covid, una persona a cui voglio molto bene, con cui ho cenato, e mi ha trasferito la malattia. Io ho fatto un tampone venerdì, era negativo, e invece ieri sera tardi ho saputo di essere positiva al Covid. A me questa malattia sta dando molti dolori, tosse, mal di testa, non sto qua a dirvi, ho iniziato già la terapia, volevo solo farvi sapere che il Covid c'è, è subdolo, si nasconde anche fra le persone a cui vogliamo bene, e tenete alta l'attenzione, mascherina, distanza, isolamento in caso di dubbio, perché veramente è dura.